Un bilancio di esercizio con il segno positivo quello che Conad Adriatico ha presentato oggi alla propria base sociale nell'annuale assemblea di bilancio che si è svolta nella suggestiva cornice del Pugno Chiuso Resort a Vieste dove Conad Adriatico si è ritrovata per celebrare i suoi primi 50 anni di attività e condividere il proprio impegno verso le sfide future. Il 2021 si è infatti chiuso confermando un trend di crescita costante con un fatturato che ha fatto registrare un incremento del più 7,7% rispetto all'anno precedente. Con l'amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando è stato un periodo buio però i numeri danno ragione a questo bel fiore, a questa bella margherita. Diciamo che sono stati anni abbastanza complicati e i numeri anche se sono stati anche buoni, sono stati molto buoni, comunque vanno visti, voglio io un periodo più lungo perché quest'anno sicuramente con l'incremento dei costi che ci sono, sicuramente non saranno tutte rose e fiori. Amministratore soprattutto un plauso a chi è stato al fronte, ai soci che hanno dovuto, come ho ripetuto più volte, accogliere il cliente in un periodo difficile però sempre col sorriso dietro la mascherina. La nostra funzione è anche quella di un certo lavoro sociale, i nostri collaboratori della rete, 8.000 persone, i nostri soci, voglio dire, hanno sicuramente dato un servizio a tutte le comunità piccole e grandi nel nostro territorio garantendo la quotidianità, garantendo una quotidianità non scontata per il clima che c'era e per l'attenzione che c'era durante il lockdown però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e di questo devo essere grato a tutti i nostri collaboratori e soprattutto ai nostri soci. Quanto siete cresciuti caratterialmente appunto perché avete vissuto una situazione del genere? Ah, guardi, adesso ci avviamo verso una fase di un nuovo riequilibrio, il lockdown sicuramente ci ha portato a una maggiore consapevolezza della socialità, dello stare insieme e del guardarsi intorno, cioè è finito il periodo dell'individualismo sfrenato degli ultimi 30 anni perché abbiamo capito che se non c'è socialità non c'è equilibrio, non c'è comunità e non c'è futuro. Il patrimonio netto di 250,2 milioni di euro e un risultato economico di gruppo di 36 milioni di euro confermano la solidità economica del gruppo pronto per i futuri progetti di sviluppo.